si spero è boss madonna non mi ricordavo sanguisuga oggi faccio delle serate solo dei ping 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 appena appena la sblocco la modalità allora anche questo mi sembra che era buggato ora non ricordo da che punto ah ecco c'è il messaggio giusto? scusarmi piano non da qui però da qui? sì da qui è quello che si guarda bene perché un giocatore che non lo sa è giù e si prende per filenza, veleno, tutto invece da qui tipo il mio amico white gottler un altro sicuro eh? adesso provo a prendermi la palla che lui si rigenera ecco questo posso inizia a sì questo posso inizia la parte più difficile di molto di molto secondo me ecco fatto ecco fatto sarà buio 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 dopo tanto buio ecco 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 si sarebbe di raccoglie un sacco di roba fischi e ridicole non accogli più oggetti possibile pepe crescente ma ci vediamo quanti boss difficili su demon's souls